Scusami, ti disculpo perché abbiamo un problema qui, io non lo so ma c'è... Che succede regia? Ah, un po' che cerco di entrare qua nel furgone di regia, io non lo so, se c'è la polizia... E c'è, guarda, ti mando la camera di sorveglianza... Mi fate... Mi mandavo in letto, c'è una strana... Ma chi è? Un strano personaggio che si... Eh, ma vedo che c'è qualcuno nella regia mobile... Ma chi è? Eh, io non lo so, cioè, chiamiamo la polizia... Eh, ma chiamiamo qualcuno, scusate, c'è qualcuno qui in teatro, le forze dell'ordine, chiamiamo... Ma poi cosa sta facendo questo... Sta cercando di scassinare il furgone? Scusate, chiamate qualcuno, mandate una telecamera... Che sta succedendo? Ma è Nuccio! Nuccio? Che sta facendo? Ma è cosa nostra... Scusate, ma... Ma come sta...? Mi sa che era... Mi sa che era il nostro furgone... Scusate, è un piacere... Non c'è tanta piccola... Ma che sta scassinando il furgone della regia mobile? Piacere... Piacere, regista... Eh, lei, lei è un regista... Eh, regista... Ma te scusi... Ma te scusi... Ma questo... Perché combassa... Scusate, eh... Scusate, eh... Scusate, eh... Eh, te scusi, eh... Eh, io ero... Pintariali, sapevano tutti i cosi... Ora mi faccio arrivare i guacciarencini, eh... Ma che cosa... Ma che cosa... Ma mi rendete conto? Cioè, i nostri mezzi... Scusi... No, no, ma capiamo un attimo cosa sta facendo... Perché... È assurda questa situazione... Non posso... Ma che cosa sta andando a scassare... Che so, appartamenti chiesti... Boh... Regista, io sono senza parole, veramente... Sta entrando? Fatelo entrare... Fatelo venire qui sul palco... Ma che fa, fuma... Ma questa mi mancava... Ma cosa... Ma guardi che non si può fumare dentro... Scusi... Venga, venga, venga... Vado a... Nooo... Stacca, stacca, stacca... Ma che... Ma che è sta pagliacciata? Che cos'è sta pagliacciata? Ma che... Ma che non si può fumare... Ma come si per me... Stava scassando il nostro furgone... La nostra regia mobile è Videobank... Beh... Non si per me, va... Ma non si fa... Ma che esempio diamo? Beh, mi resta una segnalazione... Ma c'è l'odore di fragola... Beh... Non ti muovo la sigaretta... Sto occupando... Ma che... Ma non si può fumare... Non so che... Ma ti sento male... Ma che è stato lì? No, ma... No, 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 no... Scusa... Ma chi sta tagliando? Ma non sta guarendo... È il papà di Sara... È... È il papà di Sara... È... Il papà di Sara... Ah, scusa... Non ci sta tornando... Ma lei minaccia il pubblico... Scusi, eh... Ma la vuole smettere con questa lingua? Ehi! Ma papà, sono... Ma mio figlio ne è? Ma perché c'ha un figlio lei? Che era da... Mi si è postato... Stava facendo un palo... Stava facendo un palo... Ma come si chiama? Come si chiama? Che be! Che be! Che be! No... Buonasera! 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 Io non ho parole! Buonasera! Buonasera! uno è già complicato a ginocchia te e abbassami sta mano ma che sta facendo? che cos'è questo ritorno? è figlio Kevin che c'era Kevin? chiamato dell'amico Giuffo Giuffo? ma qui che sta facendo? che sta parlando non balla i figurini lascia lo sta ma come sei per me? chi sei uno che era come ma che fa? chi sei uno che era comandato devo farlo lavorare ma posso dire una cosa papà ma non devi dire che c'era uno cristiano in due fogone nessuno che pareva attra mi stava assaggando scusate io non ho chiesto scusa al pubblico siamo arrivati di un livello veramente un livello che fa scendere ma mi diamo un bacio qua dentro non si può fumare non si fuma ma perché se mai la fai la tua Alice? no dicevo dicevo che di solito non si può fumare ma oggi è una giornata speciale si può fumare e siamo lonti si si fai una storianista che stiamo sopra aspettate un attimo un momento storia scusi dove? come si chiama lei? cristiano di stefano siamo qua con me parti in the live show come si chiama? ma chi è che si chiama? ma chi è che si chiama? si è un classe di stefano che cos'ho più capace? scusate scusate siamo in diretta io non ho parole allora partiamo dal presupposto che qui i cellulari non si possono utilizzare i cellulari dentro quando si si è in trasmissione non si utilizzano no dicevo che di solito i cellulari però è bene utilizzarli fare delle storie fare vedere i cellulari ma chi sta parando in serio? signor Cresto di stefano lei deve sapere si che è? a che avvio? che è Gaetano è Gaetano lo lasci stare è un amico mio ma chi chiama lo si o? ma chi è questo? se c'è cosa ne vedremo 508 e non facciamo emozione ma che cos'è 508? un stagione un stagione ma che cos'è un stagione? ma reagisci questa reagisci ma la vuoi scendere? scendi ma che state facendo? ma cos'è sta sceneggiata napoletana? ma questa sceneggiata napoletana? grazie a Dio che conosce il mio motoscalo la vuole smettere o questo che c'è da? chi è? o la buona mano non sono detto ma non è che non è che mi sceppi con il mio papà ma è che non è che mi sceppi lo sgraccia ma è che mi ha fatto io scusate lo ammette ci ammira a mio figlio come si fa in sceppi si ho capito io sono il conduttore devo tenere un ordine la vuole smettere di fumare signor Cresto di stefano lei deve sapere che mio papà dice che mio papà questo qua sono scalo non mi ha cazzo questo mi ha messo nella giusta papà passi a Mugello non ti senti altro ma che è Mugello? deve capire che mio papà mi ha messo sempre nella giustezza con il suo robetto cioè quando erano quello mi diceva vado a scippi un mestiere di umano cercare di fare le cose giuste bisogna lavorare sono onesto un lavoratore onesto quindi le ha insegnato il lavoro? certo mi ha insegnavo a scassare le macchine a fottere le radio e ci pare i fatalizzatori guarda cosa sta dicendo? riccello che è stato spacciando ammere i salvaggi riccello oggi ci fottere un alternatore lo sbaglio scusate io perché qua stiamo scherzando naturalmente un pezzo di che fa? ecco facciamo una storia ma una storia la vuole smegliere? instagram si instagram si chiama i allora buonasera è stato mio e non andare a Stotto senza cataletto senti senza cataletto io non sto guardando Stotto me ne guarderei bene possiamo alzare leggermente il livello di questa trasmissione perché mi sa che si è abbassato un po' troppo e finché sapete magari allora innanzitutto sta a dire poesie? sì ah e ora ci faccio sentire una poesia c'è la poesia che è del capo dei capi come capo dei capi? che c'è una poesia del capo dei capi? che ne so pascoli? ma quale è qua? ma quale è qua? un'altra scuola tua qua siamo diciamo alta classe qua siamo qua siamo gente malandrinoide richiede che fa poi e si richiede malanzini ah ma sai che ti ha detto a papà? sì è un figlio qua uccello papà? no lascia la pietra è un figlio qua sì giuffo ma perché giuffo e non giuffo? giuffo giuffo perché è più legante ah perché è più legante ok sai che fanno questa trasmissione in un certo punto mentre gli stiamo su tutte le stesse sì eh perché i fanciusciano tutte le stesse fa una ricreazione ma che sta dicendo? ma non è che lei se ne deve andare? eh sì sì su semmoni forse ma che fa? mi minaccio il figlio oh su semmoni no 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 alzatevi 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 tutti alzatevi tutti alzatevi tutti per piacere non vorrei e questo parliamo a dire per forza ma perché scusate c'è il momento della ricreazione ma mi sta piacendo a scendere di una ricreazione ma non prendiamo magari i dischi ma rialoccello stasera non ne viene a rialoccello a sto signore a rialoccello una pochcello a rialoccello ma scusate scusate la musica della ricreazione la avete guardate un'altra ma quando andai? è una barra io rubo io oggi ma come ruba? ma sta scherzando e fa? ferma ma non è che adesso tiriamo a tutti ci spaccate questa acqua e scusi? dj ricreazione ma come vuoi? qui è fai oh Basta, 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 mi prego, mi prego Gli spagnoli Ma che para, para, para Para, para, para Para, para, para Basta, basta, basta Grazie Basta, basta, vi prego Dobbiamo alzare assolutamente Adesso, visto che siete qua Fate le persone sempre Vi faccio fare i conduttori per una sera Ci state? Aspetta che mi stanno chiamando al telefono Un secondo Sì Mamma Mamma Aspetta che sono in trasmissione con il papà E con il signor Crasto di Stefano Cristiano, Cristiano Chi è che vuoi? Dici quanta pasta c'è a calare Che c'è cala, che c'è cala A stasera c'è che mangiamo nazzarosa Nazzarosa, mamma, lascia stare Va bene Vabbè c'era un euro di risiccio Un euro di risiccio Un euro di risiccio Le seppie Non ne mangi un euro di risiccio tu Io mangio pastina col dato Però c'è il gioco ora che era un euro Ah sì? Che è un euro? Sì